Investimenti per circa 500.000 euro e quanto è in programma l'Agenzia Territoriale della Casa Domodossola. Si interverrà sulle palazzine di Via Romita e i numeri civici 15 17 19 21. Il prossimo step sarà dunque l'appalto delle opere. I lavori potranno partire grazie a un contributo di 200.000 euro arrivate nelle casse di ATC dall'amministrazione regionale che a suo tempo aveva messo un bando per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e circa 300.000 euro sono invece fondi stanziati direttamente da ATC. Marco Marchioni che è presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa oltre ad esprimere la sua soddisfazione per il completamento dell'ITER ha sottolineato come il tutto sia frutto della collaborazione nata con gli uffici della regione. La rimozione dell'amianto negli edifici di Via Romita dice il presidente è segnale di attenzione per i cittadini residenti nei fabbricati circostanti e verso i nostri inquilini che meritano di poter vivere in alloggi di edilizia residenziale pubblica sempre più all'altezza delle nuove tecnologie e in grado di dare loro una migliore qualità di vita e sicurezza. La collaborazione con gli uffici regionali, l'assessorato al welfare abitativo sottolinea ancora il presidente di ATC ci sta permettendo seppur in periodo storico particolarmente complicato di portare a termine una buona parte dei progetti avviati nella quadrante molto resta da fare per le manutenzioni varie dice ancora Marchioni ma grazie alla sinergia nata prosegue il nostro impegno per riqualificare il patrimonio immobiliare in parte vetusto. Nelle province del VCO, di Novara, Bielle e Vercelli l'ATC conta quasi 15.000 alloggi di proprietà o gestiti per un totale di 60.000 inquilini.